Dal 13 gennaio 2020 sono iniziati i lavori per la prima fase di migrazione, che permetterà di liberare la banda a 700 MHz, quella che verrà utilizzata dagli operatori telefonici per il 5G. Nel 2021 invece inizieranno i lavori per lo switch off dal digitale terrestre 1 al nuovo segnale, che permetterà la visione di una televisione più ricca e con una qualità di immagini migliori. Come possiamo capire se il nostro televisore va sostituito? Sono stati rilasciati due canali di test per capire se fra un anno e mezzo potremo ancora vedere i canali TV con il nostro televisore oppure no. A partire da settembre 2021 si passerà a un nuovo standard televisivo, il DVB-T2 e non tutti i televisori presenti sul mercato sono in grado di supportarlo. Tuttavia da oggi è possibile capire se la propria TV sarà in grado di vedere i canali TV anche dopo il luglio 2022. Esiste infatti un test molto semplice da fare e che consiste nel sintonizzarsi sul canale 200, canale di test Mediaset o su 100, canale di test RAI. Se si visualizza una schermata statica con la scritta TEST HEVC MAIN 10, si può stare tranquilli. Il proprio televisore riceverà il nuovo segnale TV 2022. Chi possiede televisore che ad ora non sono in grado di ricevere i segnali trasmessi in DVB-T2 o che non riescono a decoferire lo standard H265 HEVC sarà costretto a dover prendere un decoder per poter vedere correttamente tutti i canali oppure cambiare televisore. I decoder sono già in vendita nei negozi di elettronica a un prezzo che varia tra i 30 e i 250 euro. Ora vediamo quando avverrà il passaggio del digitale terrestre regione per regione.